un video diverso su chi inizia a truccarsi gli occhi con degli ombretti con delle palette tipo queste faccio vedere da dove si può partire a mio avviso è importante partire da questi tre pennelli e adesso vi spiego la differenza tra uno e l'altro allora questo è il famoso pennello a penna si chiama chris brush chris brush è un pennello piccolino a penna che serve per poter creare la codina nell'angolino dell'occhio naturalmente possiamo anche sfumare magari una matita oppure sfumare la parte sottostante dell'occhio perché è un pennello piccolo di precisione e quindi lui sfuma esattamente la parte precisa che noi decidiamo di intensificare e questo si chiama chris brush poi abbiamo il pennello da sfumatura che si chiama fluffy chris brush che è questo come potete vedere è molto diverso ed è molto più cicciottello rispetto al precedente questo pennello qui è il pennello che ci aiuta nell'arcata dove abbiamo l'osso nell'arcata dell'occhio per poter creare il colore di transizione e anche per poter sfumare comunque gli ombretti verso l'alto quindi questo qui sarà più preciso e mi va nella precisione del lavoro che voglio fare o anche sotto mentre invece questo qua scusate il gioco di passaggio è quello che mi aiuterà a creare la sfumatura a creare la sfumatura più ampia un altro pennello molto molto importante a mio avviso è un pennello angolato che si può trovare in molte forme e anche in molte tipologie noi abbiamo liner shadow brush che è doppio quindi da una parte è un pennello non dico a lingua di gatto perché abbastanza cicciottello può essere utilizzato per mettere gli ombretti per picchettarli per poterli distendere e volendo anche sfumare ma questa parte qua ci potrà aiutare in diverse fasi sia nel fare comunque la codina la parte delineata con molta precisione perché anche bello ampio e ci aiuta a fare il tratto da eyeliner sia anche con un ombretto in polvere ma anche con una matita anche nella parte sotto per delineare possiamo utilizzarlo anche sulle sopracciglia per poter intensificare ma questo pennello è molto interessante perché l'angolatura che ha è abbastanza ampia e ci aiuterà molto velocemente a fare una buona definizione questi tre pennelli occhi oltre ad altri pennelli occhi anche ad esempio il pennello lingua di gatto che è meraviglioso volendo anche per poter picchettare volendo il correttore oppure può essere utilizzato anche per poter applicare gli ombretti in stick e anche liquidi lui invece si chiama cream shadow brush diciamo che per chi ama più utilizzare gli ombretti in polvere io farei partire con queste tre tipologie di ombretti che nel mese di luglio sono scontati nella sezione dedicata alla categoria occhi quindi nella categoria occhi troverete dei pennelli occhi questi tre sono esattamente lì scontati con tre categorie al 20% e con quattro categorie viso occhi labbra pelle sono scontati al 25% se per caso avete crediti in prodotti e vi interessano solo due pennelli potete utilizzare il credito in prodotti per scalarlo dal costo di questi pennelli a prezzo pieno senza lo sconto quindi potete utilizzare il credito in prodotti qualora l'abbiate già maturato oppure in tutti i prodotti anche delle categorie che sono a prezzo pieno spero che questo video possa essere esaustivo per tutte quelle persone che mi hanno chiesto morena io mi trucco con le dita e voglio iniziare a truccarmi gli occhi con dei pennelli quindi questo è il mio consiglio di questi tre pennelli che secondo me sono molto utili soprattutto per chi ha le prime armi per chi parte per qualsiasi cosa sono a disposizione contattatemi iscrivetemi e sono felice di potervi aiutare sono reperibili al 347 5702 191 e vi auguro una buona giornata